Un terremoto di magnitudo 5.1 della scala Richter ha scosso la città iraniana di Yazdansha nella provincia di Kerman in Iran. La scossa è avvenuta a una profondità di 10 km e ha scosso anche le vicine città di Zarand e Kianshar. Alcuni vecchi edifici sono stati in parte danneggiati a causa del sisma e la gente si è precipitata in strada, presa dal panico. Sul posto sono state inviate squadre di valutazione e mediche per conoscere l'ammontare dei danni e le possibili vittime.